Christensen, due punti consecutivi per l'americano, hanno spaccato il set, ora in battuta, forza, il pallone termina, out, no, la palla è buona, Ace, terzo punto nel giro di un paio di minuti. Ancora Christensen, una bordata, mamma mia che Ace, 18-13, ancora una bordata di Christensen, mamma mia, schizza via il pallone nel tentativo di ricezione di Linsen, 22-15, li ha già conquistati tutti Filippo, sono già tutti per lui.